Terra amara anticipazioni. Nei prossimi episodi di Terra amara qualcosa di tremendamente scioccante accadrà. In una scena suggestiva, Adnan si avvicina a Zuleya con tutta l'ingenuità di un bambino e le rivela, mamma, ho visto papà qui alla villa, indicando un punto dietro di loro. Ora, immaginate la reazione di Zuleya. La sua espressione è un misto di sorpresa e confusione, visibilmente indecisa su quanto credere alle parole di Adnan. Dato che sappiamo tutti che Demir non dovrebbe trovarsi lì, è comprensibile la sua scetticità. Sul suo viso si legge chiaramente l'incertezza riguardo alla veridicità delle parole di Adnan. Il suo sguardo riflette un turbine di pensieri. Demir potrebbe essere davvero lì, o potrebbe essere solo frutto dell'immaginazione di Adnan? Ecco dove la trama si fa avvincente. Quali sono le tue supposizioni? Adnan potrebbe aver veramente sorpreso Demir di nascosto? O forse Demir, con la sua astuzia e i suoi segreti, sta spiando Zuleya e le sue mosse? Oppure è tutto frutto dell'immaginazione di un bambino? Se vorresti sapere la verità, rimani fino alla fine. Facciamo un piccolo passo indietro. Un clamoroso segreto sta per essere svelato e cambierà per sempre la storia di Terra Amara. Inoltre, Zuleya verrà presa di mira da un e la sua vita sarà messa a dura prova. Rimani fino alla fine che non te ne pentirai, escatenando una feroce contesa tra Fikret, Akan e Kadir. Mentre la tensione raggiunge l'apice, ci immergeremo nei dettagli avvincenti di questo intricato e drammatico episodio, esplorando il destino intrecciato dei nostri personaggi. Betul, sconvolta, svela la vera identità di Mehmet alla madre, il misterioso Akan Gummusoglu. Nel frattempo, un ladro irrompe nella stanza di Zuleya, ferendo Gaffur. L'aggressore si rivela essere il fratello di Kadir, che ha disatteso il suo accordo di lasciare Kukurova. La festa di fidanzamento tra Betul e Fikret prosegue, ma l'atmosfera è tesa. Rasit fea la sua apparizione, avvertendo che Gaffur è stato accoltellato. Zuleya e Mehmet decidono di fuggire nella notte. Lutfi esprime gratitudine a Gaffur per il suo coraggio, riconoscendo che la villa sarebbe stata completamente spogliata senza di lui. Sani riflette sul fatto che hanno rovinato la vita di Fikret, cadendo nella trappola di Sermin e rivelando un volto nascosto. Lutfi propone a Betul di trasferirsi a Istanbul dopo il matrimonio, cercando di iniziare una nuova vita. Fikret, tormentato dal continuo confronto con Zuleya, prende una decisione radicale di lasciare Kukurova. Akan infrange il patto con Kadir, chiedendogli di abbandonare Kukurova. Tuttavia, Kadir decide di rimanere, affermando con me o senza di me. Nel frattempo, Akan chiede a Zuleya di sposarlo, promettendo di renderla felice. Dopo un momento di esitazione, Zuleya accetta, ma la conversazione viene interrotta da uno sparo che squarcia il silenzio notturno, facendo cadere Zuleya a terra. La tranquillità della notte si frantuma quando Zuleya è trasportata d'urgenza in ospedale, gravemente ferita. Akan, profondamente colpito, si lascia andare a pianti amari, consapevole che la vita della giovane donna è appesa a un filo. La notizia dell'aggressione si diffonde nella villa. Zuleya è stata attaccata e colpita da un proiettile, ancora viva ma in condizioni critiche. Persino Kadir, mentre cenava con Mehmet, apprende degli spari e teme il peggio, credendo che il proiettile fosse destinato a Mehmet. Kadir, agitato, cerca freneticamente il fratello, avvertendolo del pericolo imminente. Akan ci ucciderà, gli dice con urgenza, suggerendo che Akan potrebbe pensare che Kadir sia coinvolto nel tentato omicidio di Zuleya. Baiap, nel frattempo, continua a considerare la soluzione di eliminare Akan per porre fine alla situazione. Ignari di tutto, Fikret e Cetin stanno tranquillamente cenando. Cetin rivela a Fikret il suo progetto di partire per Istanbul e di assumere la gestione del cotonificio di Kukurova. Tuttavia, un uomo informa Fikret dell'incidente, facendolo crollare mentre la gravità della situazione di Zuleya si fa chiara. Ormai tutti nella villa comprendono il legame affettivo di Fikret con Zuleya. Akan, impazzito dalla ricerca di Kadir, incapace di trovarlo, sfoga la sua rabbia incendiando la capanna. Nel frattempo, Zuleya lotta tra la vita e la morte. Kadir, in preda alla disperazione, elabora un piano per salvarsi da Akan, cercando di farlo credere che qualcun altro sia responsabile degli spari. Mentre Akan raccoglie gli effetti personali di Zuleya, Fikret, incredulo, G.I. chiede chi sia per prendere quelle cose. Akan, con calma, risponde, sono il suo fidanzato. Fikret, incapace di accettare la realtà, viene consigliato da Lutfi di accettare la relazione tra Mehmet e Zuleya e lasciarli in pace. Il giovane torna alla villa e nota Betul che si prende amorevolmente cura di Adnan. Betul, però, percepisce la tristezza di Fikret, incapace di accettare la nuova realtà che vede Zuleya e Mehmet come una coppia. La ragazza, travolta dal dolore, piange incontrollabile, mentre Mehmet non si allontana da Zuleya, dimostrando un amore saldo e incondizionato. Un'ansia palpabile si diffonde nell'aria, poiché la giovane donna impiega un tempo considerevole per riprendere conoscenza. Mahmut, l'uomo che è in debito con Kadir per una somma considerevole, si autoaccusa di aver sparato a Zuleya. Per riscattare il suo debito, si aggira per le strade di Cucurova con un fucile in mano, proclamando la sua colpa. «Sono stato io! Ho sparato a Zuleya Yaman! Mi vendicherò per ciò che mi ha fatto!» L'uomo viene prontamente arrestato. Akan apprende con sgomento che Mahmut ha sparato alla sua fidanzata e fatica a credere a quanto accaduto. Kadir giunge appena in tempo per essere al fianco di Akan, ma lo sguardo spaventato di quest'ultimo getta ombre sulla situazione. Akan si avvicina a Zuleya e le rivolge parole rassicuranti. «Sarò sempre qui per te!» Fikret, vedendo Akan baciare la fronte della giovane donna, non riesce a trattenere la sua gelosia. Zuleya si risveglia e la prima immagine che incontra è il volto di Akan. In seguito a questo momento, Fikret cambia idea e decide di non trasferirsi a Istanbul. Lutfi inizia ad essere di nuovo nervosa, ma il giovane la rassicura. «Questa è la mia casa. Non preoccuparti. So che sono molto innamorati, e finalmente l'ho accettato». Nonostante le apparenze, la ferita di Lutfi è lontana dall'essere guarita, consapevole che Fikret è ancora legato a Zuleya e che non prova amore per Betul. Tuttavia, Fikret, facendo finta di niente, dichiara «Io e Betul diventeremo una famiglia». Betul e Fikret trascorreranno il fine settimana insieme. Akan si trova in una situazione difficile, con Kukurova che prende coscienza dei suoi loschi affari illegali che mettono a repentaglio la vita delle persone. La polizia è sulle sue tracce, mentre Mehmet, calmo e riservato, rimane un enigma fisico. Akan e Kadir si rivolgono a Baap per gestire le operazioni più oscure. La stampa è in fibrillazione, cercando di scoprire chi sia realmente Akan, mentre Zuleya legge gli articoli, senza rendersi conto di essere più vicina a lui di quanto possa immaginare. La giovane donna esprime la sua perplessità a Mehmet, chiedendogli come sia possibile avere un nemico così feroce. Akan risponde con calma, suggerendo che forse non è più il suo nemico personale, bensì l'avversario di Demir. Afferma che lascerà in pace gli Yaman. A Kukurova, un giornalista annuncia di possedere una foto di Akan, promettendo di mostrarla in un programma televisivo. Akan si presenta e Zuleya, con una certa ironia, lo invita a sedersi per guardare il programma insieme agli abitanti della villa. La giornalista svela una foto di Akan di spalle e Mehmet scherza dicendo che già lì somiglia. Betul, nel frattempo, scopre una foto di Demir con Mehmet Cara sul retro, in cui è scritto Akan Gumusoglu. Zuleya e Mehmet decidono di chiamare la stampa, annunciando che si sposeranno nella villa. Nessuno sa cosa accadrà quando Mehmet diventerà ufficialmente parte della famiglia. Nel frattempo, Lutfi decide di andarsene, poiché era lì solo per accompagnare Zuleya. Betul, desiderosa di tenere la foto di Akan, si scontra con Hamine. Durante la lotta, Hamine cade all'indietro e colpisce la testa su un mobile, lasciando la nonna di Demir priva di sensi. Betul è sconvolta per l'accaduto, temendo di aver causato la morte della nonna. Sermin, recandosi alla villa, scopre che Hamine non è morta. In quel momento arrivano Lutfi e Fadik, che chiamano un medico per curarla. Nel frattempo, Fikret invita Zuleya e Mehmet al club sociale. Il giovane cerca Betul per iniziare i preparativi del matrimonio e desidera annunciare la data del matrimonio durante la cena al club. Betul mostra a Sermin la fotografia che ha rubato a Hamine, rivelando che quell'uomo è Akan Gumusoglu. Le due donne si guardano terrorizzate, rendendosi conto che l'uomo più ricercato del mondo si trova proprio di fronte a loro. E così, giungiamo alla fine di questo emozionante viaggio nel mondo di terra amara. Cosa riserverà il destino a Zuleya, Fikret e Akan? Se vorresti il continuo della storia, scrivi sì nei commenti. A presto, ciao!